La Juventus, dopo aver fallito con Massimiliano Allegri senza vincere nulla, si è tuffato sui parametri zero. Poco fa, Maggio ha accettato la cifra della Juve di otto più bonus. Di Maria svincolato dal PSG ha quasi accettato la cifra che la Juve gli vuole dare per due anni. Milinkovic-Savic con trattativa di Fagioni e Perici svincolato dall'Inter che vuole 6 milioni e l'Inter non gli vuole dare, accettando la cifra di 6 milioni che la Juve gli ha offerto. In più c'è Giorginio e altri trattativi ancora in corso, facendo una Juventus un pochino più forte e non mediocre come è. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, commento, campanella, notifiche e ciao!